Luigi Pagliano, CEO Mondialpol Network. Expo non è solo Milano e quindi Mondialpol sarà chiamata a contribuire alla sicurezza anche in molte altre città. Certo, l'Esposizione Universale coinvolge assolutamente tutto il paese Italia e in quanto tale noi vedremo milioni di visitatori che verranno a tutto il mondo e gireranno tutto il nostro paese. Ecco perché questi milioni di visitatori si aspetteranno di trovare un paese sicuro. Noi come Mondialpol cercheremo, là nelle aree che copriamo, che poi era Lombardia, il Triveneto, la Sardegna, le Marche, che copriamo direttamente, cercheremo di contribuire affinché la sicurezza non sia solo percepita ma sia reale e concreta. Quali mezzi, se possiamo andare più nello specifico, anche magari tecnologici? Noi abbiamo uomini e tecnologie proprio al servizio della sicurezza, per cui la sicurezza di beni in particolare, attraverso tecnologie che possono essere quelle della videosorveglianza intelligente, dei sistemi nebiogeni, dei sistemi di localizzazione satellitare, di applicazioni sui telefoni cellulari per richiesta di soccorso a livello personale. Metteremo ovviamente in campo tutte le nostre esperienze per far sì che chi verrà a visitare l'Italia e necessiterà di sicurezza possa averne a sufficienza.